Musica Si completa il quadro dei centri vaccinali in provincia stamane l'inaugurazione del Lab di Bazio prevista la somministrazione di 400 dosi al giorno da oggi zona gialla riaprono bar e ristoranti ma con limitazioni numerose le richieste di chiarimento sul nuovo decreto che ancora non ha spazi esterni chiede un'accelerazione sulle pratiche Cordoglio Alecco per la scomparsa di Gianni Micheli 74 anni, già assessore al commercio del comune stato protagonista della nostra città, lo ricorda il sindaco Lecco sconfitto a Lucca per 1-0 i brucellesti falliscono l'aggancio al terzo posto proteste per il rigore decisivo segnato dall'arbitro alla squadra di casa tre gli espulsi Musica Buonasera, ben ritrovati con un'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco si completa il quadro dei centri vaccinali in provincia stamane l'inaugurazione del Lab di Bazio in Vassassina prevista la somministrazione di 400 dosi al giorno Ha fatto il vaccino? Sì, tutto bene, sono gentilissimi qua Aspettava con ansia questo momento? Questo sì, veramente aspettavamo, io e mia moglie aspettavamo da tempo Adesso potete tornare ad occuparvi dei nipotini? Esatto È stato tutto bene e siamo contenti Bella da dove arriva? Bellano Ah, da Bellano l'hanno mandata qui? Sì Un po' più lungo il viaggio ma comunque è comodo? No, no, è comodo per quello mezz'oretta sono qui adesso sto aspettando poi fra un po' vado è tutto bene Dopo il Palatauro Salecco e la Tecnoprobe a Cernusco Lombardone inaugurato il terzo centro vaccinale massivo in provincia gli spazi sono quelli di Via Fornaceo Merlo a Barzio accanto alla sede della comunità montana sarà il punto di riferimento in Valsassina per tutta la durata della campagna di profilassi si inizia con tre linee che potranno diventare 5 400 dosi somministrate al giorno apertura dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7 Sono felice di aprire questo centro vaccinale che abbiamo fortemente voluto e abbiamo chiesto a Regione Lombardia di aprirlo anche se non sarà un centro grande come quelli di Lecco o di Merate ma è un centro fondamentale perché la situazione orografica di questo territorio è particolare sono 450 vaccinazioni al giorno che si vengono svolte tramite il solito sistema di prenotazione e di flusso continuo in un centro vicino alla popolazione grazie all'intervento dei sindaci anche e della comunità montana che ci hanno permesso di usufruire di questo stabile, di questi servizi Da oggi AstraZeneca solo per le seconde dosi? Sì, questa è l'indicazione che ha dato Regione stiamo utilizzando AstraZeneca per le seconde dosi per il momento in attesa di eventuali nuove forniture di eventuali nuove indicazioni Abbiamo avuto supporto da parte dell'azienda ospedaliera di ATS e anche da Regione perché alla fine ha capito l'importanza di avere un centro comunque vicino ai paesi montani riuscendo a avvicinare il centro vaccinale alle persone invogliamo comunque il cittadino a intraprendere questa strada e farsi vaccinare Da oggi zona gialla riaprono bar e ristoranti ma con limitazioni anche a Lecco numerose sono le richieste di chiarimenti sul nuovo decreto mentre chi non ha spazi esterni chiede un'accelerazione delle pratiche per predisporre tavoli all'aperto Oggi primo giorno di zona gialla in Lombardia i bar e i ristoranti possono riaprire sia a pranzo sia a cena ma solo all'esterno ci sono delle problematiche? Sì, problematiche ce ne sono tante come al solito c'è anche molta confusione la problematica più grande riguarda tutte quelle attività e sono molte, circa il 50% che non hanno spazi esterni e che non potranno usufruire di questa possibilità di lavoro questo crea una sorta di discriminazione anche perché nel provvedimento non viene segnalato alcun ristoro o comunque sostegno per tutte quelle attività che ripeto non potranno operare Avete richiesto dei chiarimenti rispetto al decreto? Ma è due giorni che io sono tartassato di telefonate da parte degli associati perché ripeto come al solito c'è molta confusione sotto tanti aspetti ci sono dei dettagli che non sono stati specificati e come FIPE nazionale stiamo continuando a inviare richieste di chiarimento per tutti gli aspetti che non ci sono chiari Per quanto riguarda le richieste di occupazione di suolo pubblico ci sarà un'accelerazione in questo senso? Ma io personalmente ho già sentito gli uffici qualche giorno fa e mi dicono che sono ovviamente tempestati di domande con il precedente assessore e con il nuovo eravamo arrivati in accordo per velocizzare le pratiche mi auguro che anche gli uffici sotto questo aspetto seguino di conseguenza le indicazioni della politica Ristoranti e bar riaprono sì ma tra dubbi e incertezze centrali la distinzione tra servizio e consumo al banco e quella sull'utilizzo di barriere nei deor che così adibiti potrebbero considerarsi spazi chiusi la speranza è un chiarimento tempestivo nel frattempo ci si arrangia Un 25 aprile di rinascita e speranza Lecco medaglia d'argento per la resistenza ha celebrato la festa della liberazione Durante 20 mesi di dura lotta contro l'oppressione tedesca e fascista dava sublimi esempi di patriottismo opponendo ai rastrellamenti e alle deportazioni in Germania delle sue genti una fiera resistenza Con questa motivazione Lecco è stata insignita della medaglia d'argento al valor militare La città ha onorato il 76esimo anniversario della liberazione con una cerimonia sobria davanti al monumento ai caduti in largo Montenero senza addobbi né corteo come impongono le norme anticontagio ma sentita anche perché oggi la pandemia come allora il nazifascismo ha colpito negli affetti nelle libertà personali nella fiducia nel futuro Ora come allora occorre ricostruire ha sottolineato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni occorre ricostruire partendo dai diritti fondamentali dalla giustizia sociale dall'uguaglianza Abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani come l'antifascismo la Costituzione e il 25 aprile abbiano solidificato delle basi per costruire identità comunitarie in cui possano essere protagonisti ha affermato il prefetto di Lecco Castrese De Rosa specie ora che bisogna far ripartire questo paese nella fase post-pandemica dello stesso avviso il presidente della provincia Claudio Usuelli il 25 aprile di quest'anno può e deve rappresentare una nuova occasione di rinascita ha spiegato una opportunità per lasciarci alle spalle un anno davvero orribile e un lungo periodo di difficoltà e incertezza in cui molti di noi hanno perso familiari amici, conoscenti spesso senza la possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura se siamo usciti da un dopoguerra difficilissimo ha detto Enrico Avagnina presidente di Ampi Provinciale se abbiamo dato vita a una Costituzione tra le più avanzate del mondo sappiamo oggi che dovremo fare altrettanto anche questa volta per consegnare ai nostri figli e nipoti un paese libero, uguale e solidale esportatore di pace contro ogni forma di odio di fascismo e di razzismo Prosegue il dibattito sui primi sei mesi della giunta Gattinoni Alecco ospitiamo il parere di Roberto Nigriello capogruppo del PD e di Cinzia Bettega capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Un bilancio ottimo perché non è un periodo facile per chi amministra una città affrontare tutta la partita del Covid sono stati messi nei primi sei mesi le basi questo ha approvato un bilancio di previsione è stata già fatta anche una variazione di più di 10 milioni di euro tanti progetti che si stanno realizzando tanti progetti ancora da portare avanti ma senza dubbio sei mesi molto positivi Fiorello Chiello sicuramente il centro sportivo del Bione un centro sportivo importante per la città sempre sotto l'occhio e attenzionato da parte di tutti si sta continuando con la riqualificazione partita con la precedente amministrazione e si stanno mettendo le basi appunto per riaprire il centro sportivo concretamente e nel migliore dei modi alla città e soprattutto i tanti giovani che frequentano e che vorranno frequentare il centro sportivo Beh, questa conferenza stampa sui sei mesi di mandato fa parte di quel bombardamento mediatico al quale siamo sottoposti conferenza stampa, comunicati, newsletter il comune mi pare più un'agenzia di comunicazione che il luogo dove organizzare i servizi per la città di Nanza e diciamo così far partire i progetti per la nuova Lecco la Lecco che verrà ma anche la Lecco che deve risorgere dalla pandemia con tutti i problemi di ordine economico e sociale che ci sono stati per ora l'unico che abbiamo visto è l'aula studio o campus che si vuol dire al Bione sinceramente sul Bione abbiamo un'altra idea ovvero sia far sì che la piscina l'unico elemento che consente al professionista che gestirà l'impianto sportivo di poter equilibrare i conti tenendo conto anche delle spese di manutenzione personale, tutto quello che serve per mandare avanti un centro sportivo ecco vediamo che su questa piscina non si dice nulla ma i problemi invece sono tanti è solo uno degli esempi Cordoglio Lecco per la scomparsa di Gianni Micheli 74 anni già assessore al commercio sport e risorse umane del comune tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 Micheli era stato anche presidente della compagnia delle opere accanto all'impegno politico ricorda il sindaco Mauro Gattinioni aveva affiancato l'esperienza in campo associativo e camerale riconoscendo il valore del tessuto produttivo lecchese spronando ogni attore sociale ed economico a vivere il protagonismo della sussidiarietà Gianni Micheli si legge in una nota della civica Lecco merita di più è stato un protagonista della nostra città una persona che ha saputo mettersi a disposizione degli altri nel sociale nella rappresentanza politica e datoriale dal 2007 Micheli era in coma i funerali stirranno domani alle 14.30 in Basilica di San Nicolò torniamo a parlare di zona gialla oggi riaprono anche teatri e cinema ma il palladium di Lecco rimane chiuso la sofferta decisione dei volontari è dovuta alle restrizioni su distanze e capienza si alza il sipario anche per il cinema ma il palladium resta chiuso dagli anni 20 in cui è nata la sala del rione Castello è sempre cresciuta se rinnovata non si è resa alla crisi del cinema a vantaggio della visione domestica rimanendo unico baluardo della cinematografia in città ma è proprio il covid a segnare una brusca interruzione dopo 100 anni di attività oggi il palladium potrebbe riaprire ma le restrizioni implicano un drastico taglio alla capienza da decreto si può occupare solo il 50% dello spazio ma attuate le disposizioni il palladium potrebbe ospitare solo un'ottantina di persone rispetto alle 345 poltrone si aggiungano la prudenza dei volontari che non hanno ricevuto il vaccino il coprifuoco confermato alle 22 un mercato e una distribuzione che post lockdown non hanno l'agilità e la produttività di prima di recente la sala si era anche rinnovata con una nuova macchina di proiezione e piattaforma di acquisto online di biglietti investimenti che però non ha mai potuto ammortizzare perché subito dopo ha chiuso perdendo gli incassi per 6 lunghi mesi il palladium decide così di rimanere chiuso ma non vuole annullare l'invito però ora lo posticipa alla prossima stagione nella speranza di restituirgli al più presto il ruolo centrale di palcoscenico cittadino che ha sempre rivestito proseguono gli interventi di adeguamento sulla rete idrica di Lario Reti Holding due le opere importanti sul lago e in Valsassina tra le quali la razionalizzazione del sistema a lago una rete più moderna per un futuro più sostenibile e un lago sempre più a misura di bagnante proseguono gli interventi di razionalizzazione e ammodernamento degli impianti idrici del nostro territorio da parte di Lario Reti Holding due in particolare le opere importanti per l'alto lago e la Valsassina negli scorsi giorni sono terminati i lavori della realizzazione di un collettore tra il depuratore di Varenna in frazione Fiume Latte e l'ex depuratore di Perledo con questo collegamento l'impianto di Varenna sottodimensionato dotato di tecnologie obsolete e quindi ormai datato è stato dismesso e trasformato in una stazione di pompaggio i reflui ora sono convogliati prima nell'ex depuratore di Perledo e poi per il loro trattamento nel nuovo depuratore di Bellano le tre opere il potenziamento del depuratore di Bellano e la dismissione di quelli di Perledo e Varenna hanno un valore complessivo vicino ai 2 milioni di euro e fanno parte del piano di razionalizzazione dei depuratori di Lario Retti Holding che mira al complessivo miglioramento delle acque scaricate a lago altro importante intervento è quello portato a termine in Valsassina sempre negli scorsi giorni è stata conclusa la posa dei nuovi collettori fognari a valle dell'abitato di Barzio le condotte hanno consentito di collegare alla rete due zone del paese in parte già urbanizzate in parte potenzialmente suscettibili di sviluppo edilizio che per la loro conformazione orografica non potevano essere collegate ai collettori esistenti i reflui in precedenza erano trattati in vasche che non avrebbero potuto gestire l'incremento di carichi in previsione di una futura urbanizzazione e ora confluiscono al depuratore di via Pioverna costruito negli anni 90 e che serve ai 24 mila abitanti dei comuni di Barzio Cassina Vassassina Cremeno e Moggio Passiamo al calcio Lecco sconfitto e furioso i più celesti perdono 1-0 con la Lucchese falliscono l'aggancio al terzo posto proteste per il rigore decisivo assegnato alla squadra di casa Nel giorno della promozione in B del Como battuta 2-1 l'Alessandria il Lecco fallisce un'occasione d'oro per agganciare la terza o se non altro la quarta posizione in classifica e saltare almeno un turno dei play-off sul pessimo terreno di gioco di Lucca privi di ben 5 squalificati i brucialesti si fanno male da soli rimanendo in 10 per un tempo intero poi vengono affossati da un rigore a dir poco generoso fischiato dall'arbitro a Canfora di Castellammare nel finale di match grande nervosismo con le espulsioni del DS Fracchiolla ma soprattutto di Borsellini dovrà giocare il terzo portiere il 18enne Bonadeo nell'ultima partita di domenica contro l'Albino Leffe e di Malgrati insomma un vero disastro primo tempo avaro di emozioni il primo tiro in porta al 24esimo contropiede dei Toscani Bianchi colpisce da ottima posizione Borsellini blocca in due tempi ben più impegnativo l'intervento di Pozzer pochi minuti più tardi bella la conclusione di Nannini palla in angolo al 31esimo Iocolano prova una magia suo tiro sfiora l'incrocio dei pali parte il secondo tempo e nel giro di 5 minuti Seljak per fermare due ripartenze rimedia altrettante ammunizioni il Lecco sarà costretto a giocare praticamente tutta la ripresa in 10 eppure la squadra di D'Agostino riesce ancora a rendersi pericolosa con una conclusione di Iocolano sventata dal portiere lucchese con il passare dei minuti i toscani si fanno più pericolosi alla 66esimo la botta al volo di Panariello finisce alta alla 74esimo Borsellini pare il tiro dalla distanza di Petrovic lo stesso Petrovic alla 78esimo trova un ottimo corridoio per Marcheggiani che entra in area Borsellini esce e prende nettamente il pallone ma per lo stupore dei Lecchesi l'arbitro fischia il penalty e ammonisce il portiere Cruciani batte alla perfezione e regala tre punti che evitano ai padroni di casa la retrocessione diretta nei minuti di recupero per la lucchese anche un palo ancora con Petrovic in chiusura vi ricordo che potete seguire tutte le nostre news in tempo reale sul nostro sito teleunica.com oltre che sui nostri canali social grazie per essere stati con noi buona serata grazie per la visione